Oggi affrontiamo un argomento molto affascinante e sempre più attuale, le fonti del diritto internazionale dello spazio. Se siete curiosi di scoprire come funziona il diritto nello spazio extra-atmosferico, restate con noi. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo del diritto. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno giocato un ruolo cruciale nello sviluppo del diritto internazionale dello spazio. Dovete sapere che durante la Guerra Fredda la necessità di un accordo per prevenire la militarizzazione dello spazio ha portato all'adozione di diverse risoluzioni chiave. Queste risoluzioni hanno stabilito principi fondamentali come ad esempio l'uso pacifico dello spazio e la necessità di collaborazione fra gli stati. Con il passare degli anni si sono sviluppate delle norme consuetudinarie che sono state in seguito incorporate all'interno dei trattati internazionali. Queste includono principi come la libera esplorazione dello spazio da parte di tutti gli stati e il divieto di appropriazione nazionale dello spazio stesso. Il trattato sui principi che governano le attività degli stati in materia di esplorazione e utilizzazione dello spazio, che è meglio noto come Outer Space Treaty, è una pietra miliare del diritto spaziale. Questo trattato in sostanza sistematizza i principi delle precedenti risoluzioni ONU di cui abbiamo appena parlato e introduce delle nuove norme fondamentali. Dopo l'Outer Space Treaty sono stati negoziati altri trattati chiave che hanno affrontato specifiche questioni come ad esempio il salvataggio degli astronauti o anche la responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali e ancora la registrazione degli oggetti spaziali stessi. L'accordo sulla Luna si focalizza invece proprio sulla Luna e anche però su altri corpi celesti, stabilendo che sono patrimonio comune dell'umanità e prevedendo delle regole per lo sfruttamento delle loro risorse. Dovete sapere però che esistono anche delle dichiarazioni multilaterali non vincolanti, come per esempio le linee guida per la sostenibilità a lungo termine delle attività all'interno dello spazio, che forniscono delle raccomandazioni su come gestire le operazioni spaziali in modo responsabile e anche sostenibile. Con l'evoluzione delle attività spaziali emerge la necessità di aggiornare il quadro giuridico, ovviamente. La crescente importanza dello spazio per vari settori richiede un approccio normativo che deve essere sempre aggiornato e probabilmente anche dei nuovi trattati. In conclusione, il diritto dello spazio è un campo in continua evoluzione che affronta sfide complesse ma anche affascinanti. Grazie per aver seguito il video, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e cliccate sul mi piace. Al prossimo focus!